Ciao ragazzi, oggi vedremo molto velocemente, molto velocemente, un mix di tecniche di bagliaggio. Perché mi ha chiesto qualcosa di molto speciale, ma bisogna sapere che questo è un tipo di asiatica. Quindi quando si guarda qualcosa, bisogna capire come creare questo effetto su un tipo di asiatica. E ovviamente anche un tipo di asiatica. Ok? Stiamo mixando il bagliaggio extrema e il bagliaggio. Ora vi faccio vedere come fare questo. Questo è tecnicamente un bagliaggio. Lo facciamo è semplice l'aria e lo facciamo anche creare un po' di centimetri per evitare il effetto del bagliaggio. effetti, perché non vuole questo tipo di effetti, vuole un tipo di bagliaggio, quindi significa che questa area ha bisogno di mantenere la sua scuola, per essere scuola, non scuola. La stessa cosa, un po' di più, non toccare, scuola le luce, e poi rilassiamo la scuola. Ok ragazzi, vediamo alla fine cosa succede. Abbiamo blechato, aspettiamo circa 40-50 minuti. Ora facciamo pre-tonare con Misty Mauve e Crystal Clear, una parte e una parte. Ricordate sempre che quando usate un X-PREX Toner hai bisogno di lavorare con Crystal Clear, altrimenti il X-PREX Toner prende il tuo tono a un livello 8. E dopo, avremo una tonalizzazione più profonda di due colori, perché vogliono diverse colori che muovere dentro. E poi usiamo una scuola, una con 7 BB, che significa un beige con un mid-grond beige, e poi un'altra con 90 BB, che significa un livello di beige. Ovviamente non usiamo questo solo, stiamo misturando questo con un po' di più, perché dobbiamo correttare il giallo e l'orange che muovono dentro. Ok? Quindi aspettiamo e vediamo, e ora iniziamo a preparare questa colora. Questa è il nostro ultimo passo del lavoro. Ovviamente, nella linea fronte, usiamo un colore più leggero, e poi faremo una sorta di tecnica di sandwich. Questo significa che usiamo un lato, un lato e un lato, un lato, un lato e un lato. Ovviamente, sarebbe più naturale che il lato, ma è ok. All'inizio, vediamo cosa succede su questo. Come vedete, i luoglietti sono abbastanza lenti, ma non fino a un livello. Siamo circa un 8 e un 9, con un po' di alo. Ok? Quindi, lavoriamo in questo modo. Allora, questo è quello che necessitiamo come un effetto finale. Come vedete, stanno lavorando con il make-up, con il nostro make-up artiste. Come vedete. Il nostro lato, è come qui. Natural, ma scaduto, e con molti riflessioni. Ok? See you next time. Ciao! 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 Ciao!